Ave Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video, ci sono alcune novità dal fronte, andiamo in direzione Donetsk e più in particolare in direzione Krasnogorivka. In questa cittadina i russi hanno fatto delle piccole avanzate in direzione ovest da queste parti, come potete vedere vicino al campo sportivo e a questo impianto ospedaliero. I russi cosa vogliono fare qui? Dopo aver essere avanzati da sud verso nord, prendendo l'impianto refrattario, prendendo questa fabbrica di mattoni che dominava un po' le difese, il centro di Krasnogorivka, i russi vogliono cercare di avviluppare da nord, cercando appunto di creare una morsa, cercando di chiudere una sacca e quindi prendendo più difensori possibili. Ora gli ucraini hanno comunque ancora una vasta schiera di case in questo settore, che possono comunque difendere in diverso modo, però i russi potrebbero operare un ricongiungimento delle loro forze, arrivando da questa parte appunto, passando per l'impianto ospedaliero e passando anche da sud verso nord, in questa direzione, andando a prendere quindi una vasta sezione del centro cittadino. Ricordo che Krasnogorivka è una cittadina di discrete dimensioni in questo scenario, i russi sicuramente prendendola ributterebbero ancora più lontano gli ucraini da Donetsk, che è uno dei loro obiettivi in questo settore, e quindi ecco i loro sforzi sono mirati a prendere questo centro. Andiamo poi più a sud, in direzione di Staromaiorsk, e qua i russi sono riusciti ad avanzare in questa sezione, in questa sezione di campi, prendendo delle alture a ovest di Staromaiorsk, di questa cittadina, di questo villaggio, che è in possesso dell'esercito ucraino. Come potete vedere, i russi hanno preso queste posizioni, che come appunto si vede dalla mappa topografica, si trovano su delle alture. I russi in questo modo si trovano in una posizione privilegiata per attaccare, per approcciare Staromaiorsk e anche poi Urozaine. C'è una grande pressione da parte russa nelle ultime settimane su questi due villaggi, è evidente che i russi vogliono cercare di erodere tutte quelle che sono state le conquiste della passata controffensiva ucraina nell'anno scorso, nel 2023. I russi quindi continuano a mettere pressione su diverse sezioni del fronte. Non è sicuramente una sezione predominante da un punto di vista di importanza per i russi, però ecco, gli ucraini qua devono tenere comunque delle forze per cercare di attutire il colpo sull'offensiva russa in questo settore appunto, in direzione Velika-Novosilka. Come potete vedere, questo è il centro principale che si trova in questo settore. Per oggi è tutto, ci vediamo a un prossimo video.